ciao a tutti da iota e bentornati sul canale continuiamo la nostra saga con ambi saga è lui non va a dormire non va a dormire che sta succedendo perché occupato no vai a dormire o andato a dormire non so perché non andava a dormire alla gallina arturo è quasi full e lo portiamo subito qua vai miniera immediatamente dobbiamo upgradare questa questa fabbricato sto fabbricato e apportiamo delle migliorie vediamo no no non è questo cambiamo il tipo di stanza kitchen working room slafonio no build a room no completati tanta roba signori tanta roba ok in teoria dovremmo forse premere così aspetta eccolo qua eccolo qua a progredire stolp 200 gol richiede fama 50 vabbè e quanto c'ho 78 che che è stato no list a fabbricare perfetto fallo fabbricare lui ha finito di dormire stone stone devi incominciare a lavorare stone ma vedi che c'è il primo cliente che aspetta non è vero non c'è il primo cliente che aspetta ok incominciamo apriamo ci vorrebbe un altro un altro lavoratore aspetta aspetta ora questi chiedono gli oggetti che io non c'ho ecco come si fa west io non le posso fare le reggetti chiudi l'ufficio chiudi l'ufficio chiudi tutto il tutto allora dobbiamo capire che cacchio sta succedendo a book book for work non ce li ho i books quindi l'unico modo vediamo un attimo no 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 ah questo pretty good for work in mente fornace and then other work bench require different tools E strane ore non è stato facile E 100, 200, troppi soldi Apriamo Dobbiamo fare gli ordini semplici Vediamo se si arrivano però Pronto Eccoli qua Lui, lui, lui Cosa vuoi tu? Bella face E possiamo fare sti chiodi? Non ci dice che cosa Ah, lui è un menestrello Di nuovo ho bisogno di qualcosa Io devo andare a lavorare Ok Catenaccio, possiamo fare Fino a quando sono così Adesso ci Eh Si sbadiglia lui Ok Il prete cosa vuole? Che cavolo sono queste cose? Io non l'ho capito Facciamo questo Ma se io faccio shift No Pensavo non mettersi in coda Il lavoro non ce l'hanno in coda Tu chi sei? Pacifista Anacro Ok Visto cosa vuole Anche quelli Facciamo anche quello Uno Grazie Allora Il cibo ce l'abbiamo? Si Ha fame No no ciccio Non puoi avere fame adesso Fa anche questi Poi chiudiamo Andiamo a fare Anzi no Facciamo così Arturo Vieni qua Ok Che cavolo sei ad un bacio Arturo Fai questi Quattro ce l'abbiamo Guarda Arturo Guarda com'è forte Arturo Molto più veloce Arturo Bello riposato Uno Questo non lo possiamo fare Via Tu bandito Non lo posso fare Aspetta Prete Un attimo Eh Lavoro Più lavoro Questo è Il classico Rompiscatole Il catenaccio Lo possiamo fare Stone non sta Finito No Sta ancora Mangiando Stone Strega Comanda colori A strega Possiamo fare Stone ha finito Vai qua Stone Tu fai questo Tu fai questo What again Ah che cavolo sei incavolata Ma ho detto si Vabbè Vabbè sei scemo Allora Tu come sei messo Tu sei messo bene E tu Ti metti qua Oh Questa la possiamo fare E la facciamo tu It's cozy here È lento Però Ti bacio Ho quattro Ne vuole Ok Due Dammi un paio Di giorni Questo lo facciamo Ok Si stanno Accumulando Arturo Sette giorni Sette debito No Questo lo accettiamo Però Chiediamo Basta Finito Ce n'abbiamo più Signale Abbiamo chiuso A 162 Dunque 162 O ci compriamo Il martello O ci compriamo L'escavazione Oppure aggiorniamo Perché per aggiornare Sta cosa È 200 Ne vuole E richiede fama 50 Quindi Io direi Ci compriamo Il martello Vai Tu come sei messo Fai una cosa Tu vai a dormire Infatti Ci vorrebbe Un'altra miniera Mi faccio scavare Insieme Si può fare Posso comprare Un'altra Di queste C'è un altro Scavo scavo A cucchi In fornace No Ah Eh no Non te lo fa mettere Però questo Eh no Vabbè Stavo pensando Se invece Costruiamo Ci vuole 100 Eh non ce l'abbiamo Portiamo avanti un po' Il negozio Vediamo Arturo Quanto regge Arturo farò poco affame Quanto abbiamo Noi 66 Compriamo questo Non possiamo Questo Erano troppi Siamo da N3 Poi Arturo Lo facciamo andare A mangiare Che cacchio è sto qua Ma che Ah era coso Era stone E mangia Però Tu Arturo Mangia pure tu Rotti i coglioni Mangia no Poi Tu Te ne vai a dormire Tu Che ti sei Rifolcillato Vai guagnarti la pannetta Vai Allora fammi capire Ah Hai capito Invece lui Gold miner Poi c'ha Ehi Arturo Ho una cosa Un'annuità urgente Che succede Qualcuno ti ha rubato Le tue mucche Di nuovo No Beh si sta perfettamente Il comandante Del 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 Reggimento Dei militari Sta venendo qui Ah Beh Benvenuto Cioè Che vuole E quindi Ah Stanno venendo qui Proprio da me Perché ne hanno bisogno Di me Perché c'è una Grande battaglia E hanno bisogno Di un fabbro Teppereppo Sembra un lavoro Di me Di Di cacca Ok Va bene L'Ormongomini Sta arrivando Il loca Il duca locale Arriverà A breve Sei attenta La tua lingua Naturalmente Come parli Non fare bruciare Il nostro villaggio Ma che E un altro Ancora una volta Atturo Si fece Si è buttato In una storia difficile Per supportare L'Inghilterra Il suo Luogo di nascita Oppure la Francia Nel quale ha dato lui Casa Ah Accettando a guerra Va bene Allora Noi stiamo smeltando Dobbiamo smeltare Tanto Che caccia è questo qua Ah I heard Something best around Ok Si sono uno dei più bravi Pignori Bravi Che cosa volete Ma lei Tu nome è Atturo Si E lui 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 Comunque Comunque Vabbè Se ti pare francese Bene 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 Allora ci puoi aiutare Senti Mi aggiovasse Dato che stiamo combattendo la Francia E stiamo reclutando E stiamo reclutando ci servono persone nuove Stiamo reclutando persone nuove E quindi mi serve La tua generosità A dare i soldi No La Distant of Blending Ho bisogno di forgiare 5 spade E scudi Un ticchia del cristallo E ci dà 20 ingradi Ok Sarà un onore Marord Per me Il mio cuore Cioè Ah Bene 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 Non ti dimenticherò Mi spenna vivo Te lo dico io Allora intanto stiamo smeltando Vai Cominciamo Madonna mia Ci sono troppi Arturo Devi svegliarti Sono troppi Aumentiamo un po' La velocità Avesse già rimane Ah no Arturo 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 Stone Questo ci sderena Che cavolo vuole questo Ah Buongiorno Blacksmith Come sta andando il lavoro Stai pronto Oh Bene Messiere Ehm E' difficile Ma ce la facciamo Ehm Che ti agiova Sandy E' l'uomo Basetta Basetta Ehm Ehm La nostra parte Decisa battaglia La provincia Ehm Ehm Quindi Cioè La sua famiglia Viene dall'Inghilterra Ehm Il barone locale Ha detto che Ci sono buone cose Per tuo papà Che faceva topare Quindi mi devi dare Mare Ma dare i cosi Sono sicuro Che Inghilterra Invade L'invasione Dell'Inghilterra Potrebbe essere Ehm Ottima Per i tuoi servizi Ti avverto Che cosa vuole Senti Cosa vuole questo La Francia E' una grande Contea Turipine Should help them Ah no Aspet E' così Io aiuto una Io do l'altra C'è E posso aiutarli Tutti e due Io non ho capito Posso aiutare Una e l'altra Non ci sto capendo Niente Thank you for your trust Messieri Io faccio tutto Mi frega niente Che cavolo vuole questo Ah Eccellente Prova da mancovere S'ho ordinato a me Di dirti Ah Cosa Di pregare Dio Francia E change il tuo nome Tu sei una disgrazia Per l'Inghilterra Ma che succede Aspet Non mi sa Tell my lord Mi rese fullo Ti chiede Pietà Ho combinato Un casino Ah Tornerà Per la mia testa Cacchio Abbiamo cannato Dovamo aiutare La Francia O l'Inghilterra Lui è inglese Aspetta No No Si può solamente Continuare Va bene Abbiamo fatto la cagata A chi stiamo aiutando Che cosa vuole La Francia Richiede a te 23 Pure Io non ho capito Cioè Non solo L'abbiamo aiutato Più mi hanno chiesto Pure i soldi Vive la France Quindi abbiamo Abbiamo aiutato Abbiamo aiutato la Francia Pensavo che si potessero aiutare Tutte e due Invece No Pensavo che potevo anche Caricare la partita E fare un loading Ma invece no Signori Non si può Quindi una volta Fatta la nostra scelta Non si va avanti Vabbè non è un problema Ok Lui sta Bravo Però così non prendiamo soldi Aiutiamo e basta Per solamente per l'onore E 10 vai Possiamo fare altre due Vai vai Uno Due Tre Quattro E cinque Vai Madonna ci ha svenato Sta cosa Vai Uno Due Tre Quattro E cinque Uno Sta morendo di sonno Ok Ce l'abbiamo fatta Che vuole questo Il francese soldato Eeeh Dice si L'ha fatta la duca della color Ce l'abbiamo fatta Fii E' un po' barese Ok Ci dai soldi Ah ma Come la homeland Ce l'ha dato 73 Ma poca roba Pensavo di più Aspetta No 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 Vieni qua Forgia Ma pensavo molti di più Siamo nella spring Non succede niente Ottimo E non possiamo Fare niente Perfetto Questo è lui Lo mandiamo a dormire Esatto Lui scende E ti preoccupare È ingavolato lui Ok Allora mentre lui Sta facendo sta cosa Aspettiamo che quello Si sveglia Così noi con lui Siamo arrivati a quasi Al caso 35 il cap Ok Dormono sempre Questi qua Allora Quando è full Lo apriamo subito Lo facciamo subito Lavorare Ok Vai Vai qua Che cosa vuole questo Via Subito Anche questa Ecco lui Poi lo facciamo Lavorare qua Subito Questo Eh non ce l'abbiamo Mi dispiace Non ce l'ho il libro Nel frattempo smelta Facciamo una produzione Così in serie Allora Questo cosa vuole Eh non ce l'ho L'armor making Mi dispiace Eh oh Eh Mare Vuole il panino Ecco ecco Lui 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 Naso rosso Che cosa vuoi Sono ritornato Per darti What you say Eh Questa facciamo Sei in debito Però Perché non lo fa Ah perché siamo al cap Vabbè Mentre sei al capo Vai qua Facciamo anche il cappello Che fai tu Mi fai il cappello tu No I will not forge The tools of murder Ah ok E lui è pacifista Allora Tu fai questo Arturo I soldati Non li fa lui Ah no Vabbè No fai una cosa Tu vai giù Arturo Forgia Per il favore L'è pacifista Quello là Fai il lavoro Va Anche questo Qua abbiamo i soldi I soldi Questa cos'è Catenaccio Ok Ma dove è finito Stone Cazzo Stone è andato a mangiare Scansa Fatiche Fai anche questo Nel frattempo Facciamo una di questo Cosa vuole questo Tre Lo possiamo fare Aspetta che faccio Un lingotto Ecco Ma che c'è in mano Un gatto Un cane Che è È arrivata la strega Cosa vuole Non ce l'ho Signora Quante volte Glielo devo dire Posso fare Un panino a prosciutto Questo chi è Ah Questo è il bandito Cosa vuoi Te lo faccio Te lo faccio Stavolta te lo faccio Hai visto I lupi Nella foresta No Solo tu Li hai visti E gli è caduta la cosa Ah Ci ha buttato I soldi Stone che stai facendo Ma non stai a fare niente Stone Sei una schifezza Vai qua Nella forgia Tu vai giù E stone vai qua Pet Iniquato Sì Sì Croce sul cuore Non è vero Non ce li darà Questi qua Li perdiamo tutti Secondo me Fai anche questo E poi te ne vai A mangiare Vai Ah ma non c'è il cibo Eh Finito Eh vai Pure questo Vai È arrivato il cibo Sì Lo so che ti ha da mangiare Vieni qua Vai a mangiare Vabbè Questo lo facciamo fare da lui Vabbè oramai Gli piaceva Bravo Tu mettiti qua Quanto ne abbiamo? Abbiamo due lingotti Se ci chiedi due No mi spiace Non ce li ho Ho chiuso Ciao 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 Tante belle cose Tu quanta energia c'hai Stone Vai qua Mentre lui mangia Anzi no Fai una cosa Vai a dormire Tu mangia Preparati la scena Bravo Mangia però Ecco E chiamiamo un pasto Bravo Chi è arrivato Ah ok Ottimo Lui è Forte Adesso Ho imparato Cosa ho imparato Va bene Ho imparato qualcosa Che non ho capito Però ci sta Va bene Qua è un via vai Gente che entra Esce C'è proprio Che succede E' andata via la grafica Sta andando qua Ah Chi è? Ma chi è questo? Ma è di nuovo il pirata Cosa vuole? I wish I was to see In the end of the mud Cosa vuole? Eh ho capito Che vuole Non ho capito Cosa vuole Perché sei andata via Tutta la schermata Io desidero Il mare E non Il fango qui Ho capito Ma Che vuole? E non C'ho C'ho niente Ma Mi ha fatto vedere Una cosa E poi scomparso tutto Però Aspetta Ah vado qua Forse Gli avevo Posso fare E' scomparsa La UI Sto fabbricando Qualcosa Non so cosa Ho imparato Il coin del blacksmith Un'altra volta Me l'ha detto Eh vado con questo Non so cosa vuole Magari se è buggato Non lo so Vabbè Lui è andato a dormire Non c'è più la UI Ma se si è tutto Sparafreshato Non l'ho capito Aspetta vediamo Forse possiamo comprare qualcosa Non ci sono Equivaggiamenti qui No Possiamo comprare questi Non l'ho capito Ma ha fatto un oggetto Però secondo me Aspetta Vediamo Q No P No O Negozio I Ci compra Non lo so Vediamo settings Giochi Video Qualcosa Non funziona Si è rotto qualcosa Che non sono stato io Cioè Vediamo Proviamo un po' di tasti Questa è la Q Questa è la E T Non lo so Arturo O può fare No Apro Ehi Smith Dov'è La mia bussa Forse Amico Ho capito Ma mi si è scomparsa Tutte cose Ho capito Si è incazzato Ma Era E Per combattere No Era E Ma la bussola È un oggetto Che devo comprare Però se non lo posso fare Cioè Vado 398 Ma Che successo Non lo so Bene signori Io Onestamente Non ho capito Cos'è successo Tu stai fermo Per favore Però Qualcosa è successo Bene signori Io direi Di chiudere qui Il gameplay Poi vedremo Più avanti Cosa sta accadendo E cosa è successo Credo che Ci sia qualcuno Qua Ma è aperto Che cosa vuole Un messaggio Per il Brexit E allora Di chiudere qui Aspettate Stavo chiedendo Il gameplay E pago Signora Però pure lei Che capello Vabbè paghiamo Sta donazione Fermi Chiuditi tutto Fermi tutti Perché qua C'è stato C'è stato un casino Allora Spero che vi sia Piaciuto Chiudiamo così Perché Non si è capito Più niente Non so perché Scomparsa la UI Non so perché Non si è riuscito A fare Di nuovo La bussola Non il compasso Ma è la bussola Per il pirata E questa è la seconda volta Che viene il pirata Che vuole la bussola Questo se ne perde Spero vi sia piaciuto Lasciate un commento Un like Ebbene Accetta L'iscrizione E quindi lo chiudiamo così Come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye